E' stato chiesto il carcere a vita per il carabiniere Salvatore Rotolo, accusato dell'omicidio dell'ex compagna Antonella Alfano. La richiesta di pena è stata avanzata oggi al Tribunale del Grigento dai procuratori Ignazio Fonzo e Giacomo Forte. In aula, Rotolo ha rotto il silenzio ed ha esposto ai magistrati la propria versione dei fatti, ribadendo la sua estranietà. L'ex militare, in carcere dallo scorso 16 giugno, è accusato di omicidio volontario, distruzione di cadavere e frode processuale. Davanti al GUP Valerio D'Andria, Rotolo è comparso in compagnia del suo nuovo collegio difensivo, composto dagli avvocati Sergio Monaco e Gioacchino Genchi, che prendono il posto degli avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Neri. Antonella Alfano fu trovata carbonizzata all'interno della sua Fiat 600 lo scorso 5 febbraio 2011 nel boschetto a valle di Via Papa Luciani.